Il colono fa del colonizzato una specie di quintessenza del male E infatti Qui dice I palestini sono la quintessenza del male Infatti il presidente Serrano Erzo Che è andato a delle interviste Faceva Noi stiamo combattendo per l'universo Ha detto proprio questa parola Io ho visto il video Noi stiamo difendendo l'universo dal male Era tipo Iron Man I guardiani della galassia Tra l'altro l'ha fatto in Svizzera E un paio di avvocati hanno fatto Noi si denuncia per crimini contro l'umanità Ciao amici bentornati a We Got You Oggi sarà una puntata un po' particolare Intervisteremo Karem Roana E lo faremo insieme al nostro amico Luca Vecchi E ci siamo un po' fatti trasportare Dalla conversazione Quindi la puntata inizierà un po' così Diciamo già all'interno della chiacchierata È un po' una novità per noi Spero che sia piacevole anche per voi E fateci sapere cosa ne pensate nei commenti Ovviamente buona visione Buon divertimento Godetevi la puntata Ora si sta già parlando? Io spero di sì Vabbè dai sì Perché mi piace Comunque questa chiacchiera Però sì L'hai registrato tu? Ma si sa devo tenere il microfono così quindi Sì sì Eh no perché non capisco No Quella era real Ammazza Però è vero Mi so Il distacco emotivo che dicevo sul Per poter essere funzionale Se non c'è un distacco emotivo davanti a quello Cioè tutta la La discussione poi se sia un genocidio o meno Però davanti al massaro per me lo è Io vedo il genocidio di quello che è Il mio popolo La mia terra E comunque di esseri umani Indipendentemente se siano legati Se non c'è un distacco emotivo Che io vedo quelle immagini Esco e voglio Uno che li difende Vedo l'amministratore delegato Rai fa il comunicato E esco e voglio andare a picchiarlo Certo Però questo distacco emotivo Non deve essere troppo Cioè deve essere equalizzato Perché comunque sia Se no poi c'è la normalizzazione Quindi di conseguenza Diventa la normalità Non fa né caldo né freddo E questa è una cosa E questa è male no Questa a me però Io sto parlando di me No io Sì esatto Cioè io dico a tutti Cioè perché comunque Se subirlo troppo O subirlo troppo poco Sono lo stesso identico problema In un certo senso Anche per me Per dirti no Cioè io sono depresso E sono certi giorni Che non riesco a uscire dal letto Per questa cosa Perché dico Non è possibile che il mondo Tipo chiuda gli occhi O faccia finta di niente Davanti all'evidenza Di una cosa del genere Però Sentirlo anche troppo Poi penalizza Capito Perché come dici tu Uno Poi deve andare a lavoro Capito Perché poi deve partecipare Al Natale Alla festa Si deve sedere A tavola Io so che Di stacco emotivo Su di me Se il lavoro Il faccio io O le immagini Di altre cose Agli altri arrivano Non è che sono contento Li facciano stare male Non è normale stare male Per vedere una cosa del genere Sarebbe strano il contrario Sarebbe tipo sociopatia Esatto Tra l'altro Essere Empatico Pazzo No più che altro vuol dire Che ha funzionato La deumanizzazione Di cui Di cui purtroppo E pregna la comunicazione Occidentale Poi ora senza fare L'antioccidentale Perché alla fine Sono un italiano Però c'era C'era quest'autore Palestinese Molto famosa Eduard Said Che nel Uno dei suoi libri Più importanti Orientalismo Spiegava proprio questo Di come hanno creato Il nemico Cioè Di come c'è stata Questa deumanizzazione Un pochino Lui l'ha scritto Ora non mi ricordo Almeno di che anni Si parla Però Ha anticipato un po' Le cose E Come intellettuale Mi piace tanto Perché una delle sue Immagini più simboliche Non è lui Che sta scrivendo libri Era considerato Veramente Uno dei più importanti Intellettuali palestinesi Ma è lui Al confine Con il Libano Fra il Libano Israele Che tira sassi Contro i carri armati Israele Cioè Era l'intellettuale Che però si butta Anche questa cosa Di dire Si risolve tutto A parole Con la pace Questa retorica Un pochino Che non ti puoi arrabbiare Devi solo esprimere Il tuo concetto E poi rimetterti a sedere Quella è una retorica Che usa chi non sta Vivendo quelle cose Esatto Lui ovviamente Non viveva lì Perché poi era stato Mandato via Ora sinceramente La storia familiare Non è che me la ricordo Nemmeno tanto bene Era cittadino americano Mi sa che durante la NACBA Erano stati Finiti nei campi profughi E poi lui era andato A vivere in America E lui si ritrovò Un giorno al confine Con il Libano Con i figli Stavano facendo Delle interviste Vedendo E documentando qualcosa C'è questa immagine Di lui Ebbè è potentissimo Che ti ralzare Ma è potente In modo In modo anche ironio Ti senti proprio Io quando la guardo Mi sento Io anche Saeed Li veniva voglia Di tirare sassi Contro i carri armati Quindi allora La mia reazione è giusta Diciamo Quello che però Quindi si può fare E' plausibile Ma in realtà Poi per il diritto internazionale Tirare sassi A un carri armato Occupante E' legale Cioè molte cose Che noi si vedono Anche se dicono Lo capisco ma No non è che lo capisce Proprio legale Cioè te puoi andare lì E farlo per la legge Poi se ti tirano Una cannonata in faccia Hanno sbagliato l'ora E ti dici E' come Non lo so Andare a Mi viene il paragone Andare a scampire A dire La camorra è brutta Lo puoi fare È legale Magari è sconsigliabile Non è proprio Insomma Indicato Non è indicato Cioè non si Magari è il modo migliore Per combattere Oddio nel caso Dei sassi È diventato così simbolico Al fatto che I palestinesi Si confrontino Con i carri armati Attraverso questa Nelle lenti fa Del tirare i sassi A carri armati È sempre stata Un simbolo Anche di resistenza Perché il danno Non glielo fai davvero Certo è simbolico Forse saranno morti Due soldati In 70 anni Di occupazione Col sasso Col sasso Sì sì Tira il sasso E esplode il carri armato Cazzo ma allora Rocky Non volevo fare tutto questo Bastava meno Possibile Struggere Persone privilegiate Capito Perché poi comunque La diatriba Uno se la figura Sempre Tanti mezzi Contro Pochi mezzi Cioè capito È più È quasi una visione Classista La questione No Cioè perché Gente che arriva A radere al suolo Tutto Con armi Super sofisticate Versus Gente che non ha Neanche un esercito Cioè capito Quindi Ma il punto è proprio questo Anche perché Non avendoli dato Non avendoli riconosciuto L'autodeterminazione Al popolo palestinese Di cui io parlo sempre loro In realtà poi ci so anch'io In me Non avendoci riconosciuto Uno stato Noi non abbiamo nemmeno Un esercito Quindi anche quando ci dicono Se si vuole entrare subito Nella tematica Il 7 ottobre In generale Della resistenza Dicono Ma perché non ha colpito I militari Quando te non c'hai un esercito Non c'hai i jet Non c'hai i carri armati Non c'hai l'intelligence Sei dei miliziani Sei quindi È una Quella che si può definire Una resistenza armata Che non ha gli strumenti Che ha uno stato potente Ricco Armato E finanziato Come quello israeliano Quindi Come lo combatti Rispettando tutte le regole Di ingaggio E del diritto internazionale In realtà Le rispettano Perché Si dice Sotto occupazione Un popolo ha il diritto Di difendersi Con ogni mezzo Si dice Con ogni mezzo Non vuol dire Che puoi fare Tutto Puoi fare tutto Per resistere A quel tipo di occupazione E cercare di uscirne Manifestandolo anche Con violenza Manifestandolo anche Non so Non saprei nemmeno Che parola usare Senza finire Di nuovo In un'altra denuncia Qui sei tutelato Me l'ha tagliato Sotto un bip Ma io so In realtà poi Il mio pensiero Se uso le parole giuste È difficilmente Criticabile Il mio O in generale Quello lì Della causa palestinese Chi lo vuole criticare Lo ritiene contenuti A quel punto lì Però leva Il senso Al diritto internazionale Nel senso C'è stata La relatrice speciale Oro Che tra l'altro È un'italiana Che è Francesca Albanese È un nostro orgoglio Perché non è Visto che ce n'è uno Al mondo Ogni volta E si passano il titolo Non è sempre italiano Non è che lei Lo fa in rappresentanza L'Italia Lei la rappresenta L'ONU Per quanto riguarda I territori occupati Lei l'ha detto Si stanno Violando così Tante norme Non rispettando Le richieste Della Corte di Giustizia Internazionale Non si sta rispettando Le richieste Delle assemblee O non si sta rispettando Le richieste Del Consiglio di Sicurezza A questo punto Le cose Una è O si iniziano A rispettarle O crolla Il sistema Di diritto internazionale Cioè Non ha più senso Se c'è un'entità Che può fare il cazzo Che gli pare E dici Cioè È come se in Italia Metti una legge A un certo punto E Luca però Può non rispettarle E quindi Luca va a gira E spara in testa La gente Ma Luca c'ha i soldi Però Luca c'ha i soldi C'ha i brand È figo Luca Cioè il discorso È veramente Banalizzandolo Poi in realtà Nemmeno banalizzandolo È proprio questo E se non rispetta niente Cioè tu capisci che Ci stanno tutta una serie Di leggi Però in realtà Poi vige la legge Del più forte Di chi ha la lobby Più potente Di chi ha più soldi Comunque Israele Voglio dire C'ha dato Topolino C'ha dato la Disney C'ha dato l'intrattenimento Le piattaforme Dove guardare tanti film Cioè quindi io come faccio A rinunciare a una cosa del genere La sera cosa guardo io Ma il problema di Israele Che poi si è appropriata Della cultura degli altri Sia quella ebraica Sia quella palestinese E sì Loro dicono che sono lì In quanto Hanno creato tutta una mitologia Tutta questa mitologia Loro Poi in realtà Arriviamo all'aeroporto E c'è La gigantografia Del piatto di felafel E di hummus E dei soldati Io me lo ricordo Me lo sono anche riguardato Qualche giorno fa Il video di quando Sono arrivato all'aeroporto Che commentavo Fra me e me Quello che vedevo E c'era queste gigantografie Ed Ti aspetta In Israele Ti aspetta Pelafel Con la bandierina israeliana Sopra L'azione culturale E pulinaria Tra l'altro Cioè se siete stati 75 anni a occuparci Cazzo inventatevelo Un piatto vostro No Si sono colati quelli E poi Cosa hanno portato Di cultura E io questa cosa Dico sì Perché io paradossalmente Conosco meglio La cultura E Quella società civile Israeliana Di quella palestinese Perché alla fine Sono un palestinese Con cittadinanza israeliana L'ho frequentato L'ho visti E infatti Che dicevo Oltre al piatto Di felafel Di hummus E ti dicono Se sei arrivato In Israele Puoi assaggiare Il cibo Arabo Più buono Nel mondo Però loro Lo chiamano Israeliano L'altra immagine E la vedi ovunque È dei soldati E qui ti proteggerà Il nostro esercito E c'è queste immagini Di soldati giovani E belli Con la luce Al tramonto E si abbracciano E corrono A uccidere i bambini La vita da soldato Israeliano Cioè comunque Vabbè A parte che Credo che Israele C'abbia proprio Un rapporto particolare Con l'esercito Cioè tutti quanti Tutti quanti Fanno Israele è un esercito Non è un stato Esatto Anche Gal Gadot Ha fatto il militare Cioè capito Quindi No la cosa È una cosa israeliana Qual è E questo Questo secondo me È un punto fondamentale Appunto C'hanno il cibo Quindi la loro parte culturale Quella divertente L'aria che respiri Medio orientale Appunto è medio orientale Se vai a Gerusalemme Non resti impressionato Perché c'è Un soldato Perché è davvero La cosa israeliana Che portano C'è il quartiere ebraico Che è lì E quello lì C'è da sempre Quello lì C'è cultura C'è storia E quello lì Nessuno nega Che gli ebrei I musulmani I cristiani Convivevano Sia a Gerusalemme Che in altre parti Della Palestina Solo erano 8 mila Non 10 milioni E E non c'era stata Una deportazione di massa Per far arrivare Questi 10 milioni 8 milioni D'israeliani Quindi c'è Però Tutto il resto Di cultura Che si respira Haifa È la città Dove sono nato io Che è una città Israeliana Alla fine Sulla carta Io sul passaporto Sono su Io sulla carta Sono israeliano È una città Dove di israeliano Ci sono le persone E c'è lo scheletro Di questa cultura Di un tempo Infatti è una città Vuota Haifa A me dicono Tutti sono sta Haifa È bellissima Fa cagare Se la guardi Con gli occhi Di un palestinese Nostalgico E sai Tutto quello che era Haifa Era questo porto Questo luogo di scambio In realtà Esco con le mie cugine La sera E si va a prendere Un ice cream A un mall gigante Vicino al tempio Vai C'è stata Questa contaminazione Diciamo Della modernità Sì Sembra Io lo chiamai Mio fratello Una sera Quando ero lì Mi ricordo Ficci una videochiamata Con i miei fratelli Quando ero a Haifa Mi sa Ora a settembre No forse restai Quando ci andai A maggio Io entro In delle digressioni Gigantesche Vai Chiamai mio fratello Quando sto andando Appunto a mangiare Il gelato E l'ice cream Con le mie cugine Palestinesi Che però stanno lì A Haifa In Israele Nessun arabo Per non fare Troppa confusione E Richiamai Ficci Che vi ricorda Questo E loro mi risposano I miei fratelli Long Island Mio fratello E mia sorella Tutte e due Come facevano a saperlo Perché mio fratello Ha studiato due anni Medicina in America E noi eravamo Andati a trovarlo L'unico motivo Per cui potevo andare In America Io nella vita Per andare a trovare Mio fratello Poi è venuto via Perché anche lui Che ha detto No fa cagare L'America No è stato bravo Cos'è fatto No Quattro anni C'è stato Si è preso una prima laurea Poi è tornato in Italia Ora sta finendo Il percorso di studi Insomma Che diventa un medico E Quando andai a trovarlo lì Quindi L'unica volta Ho visto l'America Era per questo evento E ero insieme A miei fratelli E c'era questo in America Quindi la macchina Ti vai in un parcheggione gigante Ti vai a mangiare Lo waffle Hanno riportato Quella cosa lì Hanno portato Quella cosa lì Ci sono Sprazzetti Di cose americane McDonald's Appunto Che non è che non ci sono In Italia Però lì sono proprio L'unico punto Dove ti puoi trovare Poi sì C'è il C'è il C'è il Cnafe C'è il Il chioschino Di hummus Sembrano Sembrano tutti insieme Felici Appassionatamente Infatti molti Me lo dicono Te sei di Haifa Come fai a non riconoscere Che lì convivono Tante Che c'è un multiculturalismo Convivono tante identità Diverse All'apparenza Sì Se guardi l'apparenza Ma perché Intanto C'è già un sistema Un primo Un primo livello Di apartheid Lì Che ti Che fa una distinzione Fra Arabi Israeliani Palestinesi Israeliani Israeliani Ebrei O israeliani Comunque Perché come vengono trattati I palestinesi Non solo vengono trattati Diversamente Ci sono proprio anche Già Perché lì l'apartheid È stratificato In Israele A seconda della zona È più Pressante Opprimente Nella zona israeliana Di noi palestinesi Con passaporte israeliano Ci sono delle leggi Diverse Proprio E qui Tutti fanno finta di niente C'hai gli stessi diritti Puoi votare Sì Però Tipo A mio nonno Gli hanno rubato la terra Nel 48 Non è stato espulso Durante la Nakba Però Gli hanno preso Dei pezzi di terra E poi hanno fatto Una legge Che dicevano Che I documenti Di proprietà Terreni Scritti in arabo Non valgono E quelli Prima No Quelli prima del 48 Non valgono Quindi te ne devi fare un altro Quindi la devi ricomprare Da uno che te l'ha occupata E Quelli scritti in ebraico Anche se ne trovi uno Che l'ha scritto Salomone Nel 800.000 Vale Validissimi Quindi Già c'è un sistema Giudiziario Di quello che è diverso Anche la cosa Dell'esercito Dicono Gli arabi Se vogliono Possono Volentariamente Fare l'esercito Io se potevo Se volevo Avrei potuto fare l'esercito E invece per gli ebrei È obbligatorissimo Anzi è proprio Un'onta Non farlo Una vergogna E Qualcuno lo considera Quasi una cosa Sappiamo che Non volete fare esercito Non ve lo facciamo fare Eh ma vuol dire Già che ci stai Non Voi come lo Cioè se qui in Italia Ci dicono L'esercito è obbligatorio Per tutti Se Se hai la pelle Gialla o nera Sei un po' più scuretto Sei arabeggiante C'è troppa barba Puoi non farlo Certo Già ti senti escluso Dalla comunità Non c'è il multiculturalismo Che dicevi prima Nel senso che Uno dice Non c'è un obbligatorio Puoi fare già una distinzione Già la distinzione è fatta Quindi l'esercito È la cosa più importante Che c'è in Israele Perché è veramente La cosa più importante Ora secondo me Questa cosa è Interessante Approfondirla È dettato anche Da una paranoia Già di fondo Cioè credo Che comunque sia Questo rapporto Così viscerale Così Con la questione Dell'esercito È proprio per non essere Per non restare scoperti Cioè capito O no In che senso? Subito dopo Visto la provenienza Cioè visto Da dove Da dove vengono È chiaro Che la prima cosa Uscito da un campo D'estermino La prima cosa Che faccio È prendere un esercito Cioè capito Armarmi fino ai denti Perché comunque sia Affinché non Oddio Non ricapiti Di nuovo Eh non lo so Se la mentalità È quella Di quegli usciti Dal campo di sterminio Questa cosa Di rinchiudersi In uno stato Militarista Davvero Li ha dato più sicurezza Gli ebrei di Israele Ora sono più sicuri È il posto più pericoloso Al mondo Dove essere un ebreo Da sempre Tra l'altro È pericoloso Perché non In guerra costante È in guerra costante Non ha mai avuto L'intenzionalità Negli anni È stato È un progetto Coloniale Quindi i progetti Coloniali Sono basati Sulla pulizia etnica Quando fai pulizia etnica La fai con la violenza La colonizzazione È violenta Di base Di per sé È proprio un processo Violento Indipendentemente Dall'opinione Uno può dire È giusto Vabbè a te ti piace Però è violento Certo E la violenza Sarà una frase Che genera per forza Genera per forza Una risposta Violenta Dal popolo Che colonizzi Quindi Sei circondato Sempre da violenza Perché stai portando avanti Un progetto Violento Però te dici E io divento ancora più violento Così mi sento ancora più sicuro Funzionava anche logicamente L'immagine un po' Di provare a spegnere il fuoco Col fuoco Esatto Invece Oltre al sistema scolastico C'è un Diciamo questa propaganda Continua anche proprio Sui giornali Sui siti dell'università Cioè Ci fai qualche esempio Di come Viene disumanizzato Il palestinese Parte da Parte da questa cosa Scolastica Parte dalla divisione settoriale Delle scuole Tipo non incontri mai I palestinesi Con cittadinanza israeliana Come sono Dio la mia famiglia Vanno in scuole Per palestinesi Anche questa cosa Che non c'è la scuola mista Che secondo me dovrebbe Se uno c'aveva in mente Un minimo processo di pace Dove dire Le scuole devono essere miste Per forza Ci metti 50% Per amalgamare Certo Per fare Io Che ho avuto Una ragazza israeliana L'ho conosciuta A Firenze Era la prima volta Sia per me Che per lei Che ci Facciavamo Con Una persona Dall'altra parte Che non fosse In Israele Vado in un negozio E c'è un israeliano E gli chiedo Passa Fighissima questa cosa Tipo Romeo Giulia Cioè Fighissima Ti chiedo Com'è finita No vabbè Non era finita Nemmeno malissimo In realtà Tu hai conosciuto I genitori Cioè Sei andato in situazioni Insomma Di convivio Noi ci siamo conosciuti A Firenze Quindi lei studiava Medicina a Firenze Io già lavoravo Invece come Fuori dal contenso Quindi fuori da lì Quindi c'era una storia Normale Cioè Se la vedevi Se levavi il nostro Background culturale Di appartenenza Eravamo due ragazzi Normali Due ragazzi Il flirt era basato Anche un po' Sull'interesse Perché Ci avevamo conosciuti Su Tinder Nel periodo In cui c'era Il lockdown Quelli pesanti Dove non uscivi Ok E quindi ci siamo scritti Un pochino Però poi Quando ci siamo visti Quando è finito Quando hanno iniziato Le riaperture Ci siamo visti Si è fatto un aperitivo Molto dell'interesse iniziale Il mio interesse iniziale Era anche perché Era anche parecchio buona Quindi c'era anche quello E anche Il suo L'interesse Di conoscere un'israeliana Lei mi ricordo Uno dei primi messaggi Mi mandò Dopo un pochino Perché nel profilo Non ce l'aveva scritto Che era israeliana Però dopo qualche messaggio Che si capiva E poi si doveva Vedersi Però quasi come Devo dire una cosa Sono israeliana Mi vuoi ancora vedere E ho fatto Guarda l'ultima volta Ho controllato Non ero un razzista Ho detto Però dipende Dipende Che sei votato Dimostrami il contrario C'è sempre tempo C'è sempre tempo Infatti No E sicché ci siamo incontrati Lei forse invece Più che da Giustamente Più che dal mio aspetto fisico Era interessata Dal Dal mio background Culturale Invece Se riconosco Un palestinese Fuori da Israele Perché probabilmente Lì è più difficile E Poi vediamo In che messaggio Siamo trovati bene A livello di feeling Umano E di flerte Abbiamo iniziato a uscire E poi diventata Una storia Una storia importante Per me Per Per me È un po' triste Da dire Ma Stando con Anna Poco dopo Io ho detto La società israeliana È fallita Cioè io Mentre stavo con lei Se lei è il meglio Della società israeliana Come israeliana Non come persona È intelligentissima Una dei medici Parlava quattro lingue E scriveva in tre alfabeti Perché lei era di origine russa Scriveva in cirillico In ebraico In italiano Era in Italia da Quattro anni Parlava l'italiano Mi correggeva a me Un tanto E Un genio A livello anche Clinico Di Di tante cose Si interessava A tanti temi Leggeva Quindi Non un ignorante Però sulla questione Palestinese Israeliana Lei Diceva Io sono un medium Davvero me ne posso Interessare Non ho una mia idea Non mi interesso Di politica Ma si ha liquidato La questione così Da un istante Comunque No Poi se ne parlava Poco Pochissimo E Era difficile Magari ti faceva un commento Ma ti ho già detto Come la penso Si ma Si può parlare anche più Di 15 secondi Cercava proprio di E disinnescare E di dare Il conflitto Non voleva mai entrare Nel merito Di nessuna cosa Qualche volta Non è che non ci siamo mai Entrati E non era Tutta la base Nella nostra relazione Anzi era interessante Proprio perché Ci troviamo io Un israeliano davanti E bisogna parlare Due ore Bisogna parlare Due ore di quello Invece Addolcirlo Con un Con un Flair Che era Che era reale Perché ci volevamo Bene davvero Come ragazze Non è che Uno mentiva Per Eravamo agenti segreti Esatto Mister e miss Esatto No poteva Poteva essere Un piccio Interessante Di lei non lo so Di me Non so I servizi segreti Palestinesi Fanno schifo Quindi non sono arrivati A me Potevano comprare E E quindi Se ne Se ne E lì E lì E cascata Tutta la mia disillusione Non che prima Mi aspettassi Che ci avrebbero salvato Gli israeliani Però gli ho detto È malata anche La parte della società Che io rievo Non salvabile Ma dialogante Che comunque Aveva idee diverse In Israele Quindi c'è O l'estremista O quello che non gliene frega Un cazzo Non c'è quello che Più Quei sette Otto Sfigati A cui Si può fare una statua Che sono contro L'occupazione Che sono proprio Una minoranza Minuscola Ma si lo conosco Per nome Alony Green Gabor Maté Norman Finkelstein Miko Pelè Del fratello di Nourit Pelè Perché so Così pochi Sono anche In famiglia Cioè non Sì Poi ci saranno Una trentina D'attivisti Certo Vanno a protestare Però ragazzi Quando vanno a fare le proteste Te le vedi E dici Ma cos'è questa cosa Sono in dieci Sono in dieci A protestare Ma non ora Dopo il 7 ottobre Anche quando protestavano Per l'embargo a Gaza Che di fatto era Un campo di concentramento Erano proteste Un po' leggere Un po' 10 persone Si trovavano In una stanza Dicevano Non è giusto Tutto questo E tornavano a casa Io Prendere la palla al balzo Per parlare Del giornalismo italiano Cioè ti sei reso conto Che effettivamente C'è un problema Ha funzionato La propaganda israeliana Hanno iniziato a mettere Molinari Che il direttore Repubblica E' stato piazzato Lì Dal giorno alla notte Non so se vi ricordate La vicenda C'era L'altro direttore Non mi ricordo Ma si chiama Che intanto Mi assomiglia Sembra più piccolo E più dolce Di lui Non mi ricordo Come si chiama Lo cerchiamo Lo cerchiamo Questo cambio della guardia A caso E' stato messo Molinari Stavo piazzato E' messo lì Perché Jedi Che è quello Contro la Repubblica La famiglia Elkan Elkan è una famiglia Molto legata A Israele E Molinari E' un amico Intimo di Netanyahu Quindi noi Quando Te te lo immagini Leggere Informarsi Sulla questione Israele Palestina Attraverso Repubblica Sarebbe come Se Medev Il miglior amico Di Putin Viene Dirige il Corriere della Sera Le leggereste Le notizie Su Russia Ucraina Più che altro Adesso Recentemente Molinari Si è anche lamentato Con la Meloni Di dire No Limitate la libera stampa No Una barzelletta Ma questa è fantascienza Stiamo proprio Oltre Philip K. Dick Capito Perché Io una volta L'ho incontrato Gli ho detto una cosa Non so se si può ripetere Alla fiera del libro Più libri Più liberi Qui a Roma E L'ho incontrato Visabì Lui usciva da un coso Con Corrado Augas Che aveva parlato Lui L'ho incontrato Per caso C'erano tanti stand Tante persone Che parlavano E le ho fatto Direttore Mi aveva venuto Spontaneo Ho fatto Direttore Il mio sogno Il mio sogno È vedere lei E Netanyahu A Norimberga Proprio così Paro paro Lui ha arrossito Lui ha arrossito Un super villain Perché se insisti Sei te Diventi uno che aggredisce Verbalmente Devi smetterla Se lui mi rispondeva Nel merito Mi diceva Come ti osi Io gli dicevo Te hai difeso Questo Iniziamo a dibattito Lui ha capito Certo Che per zittirmi Ma ha disinnescato In un secondo Con l'amore Come Gianni Morandi Bacetti Codo di Anna Mai smettere di credere Nei propri sogni Giovanotto Ma daco Poi c'ha questa mano Molto all'arre Carlo Dozzano Che sembra che mangino sale Cioè c'hanno molta Difensione Non è per fare Body shaming È una Osservazione clinica Un'osservazione clinica Molto Mazzano Non me l'aspettavo Che stile Ma daco Io sono rimasto fermo Sono andato via Zitto Molinari Ma E lì ho detto Non ti è avvenuto niente Una battuta alla Sergio Leone Capito Perché la serve Una cosa Alla Vincenzoni Capito Io mi aspettavo Come ti permetti Come da lì magari iniziava Invece no Continua a credere Ma daco la mano Si è messo Ha fatto la foto Una stella cadente Una stella cadente Esprimi un desiderio A questo prossimo Noi ti volevo chiedere Tu da un ragazzo italiano Che ovviamente non c'entra niente Con la causa palestinese No Che tipo di aiuto vorresti Cioè che secondo te Che tipo di aiuto potrebbe dare concretamente In tutte le forme A me la cosa che interessa a me È che l'è stata la mia mission 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 Come si dice Mission Un po' pubblicitario però C'è sta La mia Però Il mio è un progetto comunicativo Alla fine E divulgazione Autodidatta Da solo Con le mie conoscenze E gli strumenti che avevo Sono passato da Instagram Perché è lo spazio Dai social Perché sono spazi Che ti autoprendi Quindi ci funzioni Più consono No perché se funzioni Te li Te li È meritocratico Fra virgolette Repubblica non mi ha mai chiamato A scrivere un articolo Per dire Diamo spazio sia a Cecilia Sala Raineri e Karem No Quindi Cosa voglio io da Non da chi Cosa voglio Cosa Cosa mi auspico Che succeda Parlando di Palestina Il mio claim All'inizio Che avevo messo Prima del 7 ottobre Ora magari è un pochino Un pochino Non lo so Anacronista Non è adatto Alla gravità Della situazione di ora Ma ti racconto La causa palestinese Senza annoiarti E prima ancora Era quando iniziai Voglio rendere La causa palestinese Mainstream E in realtà è rimasto Quello E uno dice Quindi vuoi che la gente Ne parli e basta Eh sì A me mi interessa E infatti mi interessa Sia il tipo di pubblico Non tanto il numero Il pubblico che mi interessa È un pubblico italiano Giovane Che prima non conosceva La Palestina A me quando mi ferma Il palestinese Mi fa ti seguo Ti falo Che cazzo me ne frega Non voglio te Non voglio te Non voglio te Te sapevi già tutto Ci sei nato Cazzo mi segui E invece Quando ti Il pubblico Io l'ho visto Vabbè poi Instagram Deve essere Pensavo io Oddio sono un sex symbol Perché ho visto 75% Ti seguono donne In realtà Ho scoperto In realtà Semplicemente Ti usa per A fine divulgativo Instagram Molti Ah spesso è così Sì sì Moltissimi canali Poi fra amici Influencer L'ho chiesto Scusa ci guardi Anche te Sì sì Tutti Quindi ho scoperto Che non era Che non mi seguivano Per la mia bellezza E O non solo Non lo so E Cosa voglio Creare cultura E uno dice Sì a che cazzo serve Ora per fermare Nel breve termine Tanto non serve A parte fare pressioni Su politici Che quello stiamo facendo Lo sto facendo Non solo io ovviamente Tutti Chi lo fa con le manifestazioni Con i social Chi lo fa a Sanremo Chi lo fa Ovunque E Con iniziative personali Con Parlandone in famiglia Quindi La pressione serve Per farla arrivare ai governi Perché arriva Sono loro alla fine Che decidono Quindi a meno che Biden Non si svegli Nel breve termine È veramente difficile Fare qualcosa Ma credo che sia In discesa la questione Oggi gli hanno detto Tipo Ma lei sta bene A livello di pensiero Riesce a pensare Sì Riesce a pensare No l'altro giorno Ha detto Sembra che stava Dopo Ma l'altro giorno Ha fatto una cosa Ha detto Ho parlato con Al Sisi Sì Ha scambiato Il presidente del Messico Ha scambiato Riccitto col Messico Ci hanno fatto Ci hanno fatto i meme Ma poi non si è corretto Tra l'altro Eh no Lui è andato avanti Quindi non è che Dici ti scappa all'abso Se te ne accorgi Sì Lui era convinto Stava Quindi ci hanno fatto i meme Hanno messo i baffi Al Sisi Narcos Narcos Nilo No ragazzi Bellino Sombrero E E quindi Il cambiamento Nel breve termine Io punto sul cambiamento Nel medio lungo termine Per quello riguardo Dal mio piccolo progetto Che Può avere più o meno seguito Può essere più o meno utile Però Cioè se ne deve continuare A parlare Più che altro E io mi ricordo di una cosa Se Se diventi antisionista Da giovane Resti tutta la vita Antisionista Cioè se Non torni indietro Non torni indietro Non si torna indietro Esatto E quindi Io so contento Che il mio pubblico è giovane Non giovanissimo Purtroppo a quello Non ci sono riuscito Ad arrivare Under 20 Under 18 Impenetrabili Guardano Perché Secondo me Non del tutto Non lo so Io ne so Per esempio Usano TikTok E tu usi TikTok Eh io lo usavo Andava anche bene Solo TikTok A un certo punto Inizia a buttare giù tutto Ma poi c'è un algoritmo Potentissimo Anche i video Anche se censuri tutto Levi tutto Capisci che parli di politica Ma lui non vuole Non è che è pro israele Non vuole Lui vuole Sculetti Non vuole certo Vuole sculetti O parli di roba un pochino Ma anche per esempio Se parli di suicidio O di altre cose Ti butta subito Ma non ci sono Scamotage Per girare Ce l'ho provata Poi mi sono rotto il cazzo Ho detto Vabbè Non posso passare Il giorno A creare dei codici Tipo non sono Tolkien No poi io Il video lo faccio Lo ricarico ovunque Non è che lo posso fare Quindi su TikTok Quindi però cancellavo Le cose più cruente Tagliavo le parti Dove facevo discorsi Però niente Finivano giù Ora Ma poi Con una velocità Che sembrava Che ci fosse Un Una persona Singola Per me Non è neanche un bot È un cinese È un cinese No davvero Non sono più efficienti Che però Se ne sa Anche perché Non si capisce Magari non metti immagini Che loro hanno Il database di immagini Su Israele e Palestina Magari Appena esce un'immagine Su IonPalestine Se la ricari Su TikTok Ovviamente Ce l'hanno già nel database Certo Quindi tagliavo i pezzi Niente TikTok Quindi Il problema è che Instagram Proprio come Facebook Prima sta diventando Un luogo di bumeroni Cioè sta affinando In mano a persone Di mezza età Che Ci sono anche loro Non l'odio poi No No pure abbiamo fatto Il podcast per i giovani Ci guardano solo vecchi Diamo un messaggio A questi giovani Che vuoi fare Per allargare il bacino Danza Le nuove generazioni Non lo so Quello lì è un pochino Però Che succede Infatti Non so Vabbè La mia influenza Poi non posso Fattuto Quindi Ci sarà qualcuno Che si occupa A un certo punto Ho detto Ragazzi Posso arrivare a tutti Cioè arrivo A un bel po' di persone Molte di più di quelle Che mi aspettassi Mi fermano persone A me spesso Mi dicono Questa frase Che è un pochino cringe Però in realtà È la frase Che mi piace più Mi hai aperto gli occhi E mi hai aperto gli occhi Sai vuol dire Che non ne sapevo Vuol dire Non ne sapevo un cazzo Di Palestina Se non guardavo il tuo reel Non iniziava a interessarmi È così Mi hai aperto gli occhi Mi sono comprato ogni mattina A girino Ragazzi Per me è lo stipendio Hai vinto Quando ti dico Una cosa del genere Ho vinto Me lo dicono spesso Spessissimo E La responsabilizzazione Su questi social In quello Che condividi In quello che posti In quello che leggi È possibile O siamo in un marasma Cioè comunque Di input Che arrivano da ogni direzione E poi finire Comunque sia Nella Deve farlo bene Perché il fact checking È proprio Una cosa che dovrebbero insegnare Nelle scuole Secondo me Perché poi comunque Così sei preda facile Eh no Cioè mettici in mano Degli strumenti utili Perché io per esempio Sono vittima Perdo veramente Un sacco di tempo A far fact checking E spesso manco ci riesco È un problema Secondo me Le Chi Come si chiama I canali Che ricondividono video O storie da Gaza Alla Palestina I giornalisti sul campo Ma in generale Da sempre sulla Palestina Io in Palestine O anche tutti i giornali Online Ma anche quelli israeliani Sono sempre stati Abbastanza affidabili Per i livelli a cui Facevo riferimento io Quindi ovviamente Un minico di fact checking Lo fai su Incrociato Incrociato Un zionista Lo riconosci subito Perché difende a spara Tratta Israele E poi c'è Quell'essere peggiore Che è il pacifista Ovvero che lui dice Vorrei solo la pace Che è il papa questo No no Il papa ci va pesantissimo Il papa francesco Il papa ha dato Dei terroristi israeli Già tre volte Tipo Ah vedi Ah cazzo Me lo sono perso Porca troia Ho focalizzato Sulle unioni civili Tant'è che Claudio Cerasa Del foglio Direttore del foglio Superzionista Ha fatto un articolo Un editoriale Contro il papa Contro il papa Spiegando al papa Francesco non si educa Cioè c'è solo un capitano Che Claudio Cerasa Vuole spiegare al papa Vabbè No 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 E il papa A un certo punto È uscita questa notizia Verificatissima Poi da tutti i media Ovvero che È stata verificata Anche internamente In una chiesa A casa E che ci sono Poche Partito ora sono state distrutte Mi pare che sono due chiese principali Anche molto antiche Due donne Stavano lì davanti Madre e figlia Cristiane di casa Un cecchino Anche a baco Le ha sparato in testa Mentre andavano al bagno Il prete L'ha detto al papa Il papa ha detto Sta roba più è terrorismo Certo Che li puoi dire Però Capito Questa parola L'ha usata il papa Non un politico Che ti rappresenta E nonostante la dica al papa Comunque i giornali italiani Riescono a smontarla O non la Non la Non la ricondivino Oppure ricondividono La critica Del Della comunità Ebraica Eh ma insomma Parlare di terrorismo E il 7 ottobre Che palle Si ritorna sempre a quel punto Sempre Oggi Fassino ha fatto un tweet Oggi Oggi Che cazzo di giorno siamo oggi 11 febbraio 11 febbraio Fassino ha fatto un tweet Il 7 ottobre è stato un massacro bruttissimo Ma che cazzo Buongiorno Allora Buongiorno 150 giovani Volevano solo ballare Per la pace Vai sotto un campo di concentramento A ballare per la pace A me questa cosa Ma questa cosa Ma ha distrutto Dal primo giorno E molti mi dicono Allora è giusto Che siano Te vuoi che muoiano Ma non è Non è questo il punto Bisogna capire Com'è che siamo arrivati Che delle persone giovani Istruite Che hanno accesso A qualsiasi cosa Perché se vieni da Tel Aviv Per andare a ballare lì Tel Aviv è la città più costosa Al mondo Sei istruito Benestante C'hai un iphone da 2000 euro Ti puoi andare a informare Relativamente alla propaganda Disumanizzante Dicevi prima Cioè il fatto che dei giovani Riescono ad avere l'idea Di andare a ballare Accanto a un campo di concentramento È per quello Perché magari Fin da piccoli Ci hanno avuto questa propaganda Che gli dice Quelli che là dentro Sono persone Anzi manco persone Magari ratti Che se lo meritano Ma nemmeno Magari alcuni di loro Non pensano nemmeno Non ne sanno niente Basta No Ma la propaganda L'estremista Pensa siano dei ratti Che devono morire E su di lui Non è nemmeno Tanto la propaganda Ma è la radicalizzazione La propaganda È su quelli Come Mi dispiace Li fischeranno tanto Le orecchie Anna La mia ex ragazza Che alla fine Con palestinese C'è stato Quindi tanto Chi usa il dialogo Non deve essere Una persona Studiata medicina Psichiatria Tra l'altro Iniziata a specializzarsi Quindi Interessata anche All'animo umano Alla conoscenza Letto di tutto Leggeva Di continuo Interessata A moltissimi temi Quindi Dice Non è una Che se È su di lei Se ha funzionato Io ne ho detto Se ha funzionato Su di lei La propaganda Deosmanizzante Figurati su tutti gli altri Per questo Quando io conoscivo Hanno detto Cazzo È finita No è finita Non c'è salvezza Israele Non farà mai La pace Perché se Anna È la parte migliore Di Israele Siamo rovinati E lei Noi ci siamo lasciati Semplicemente Perché lei A un certo punto Voleva tornare Lì Dopo aveva finito La prima laurea E aveva iniziato Voleva tornare lì Ancora non lo sapeva Noi si Sare andati a convivere Addirittura Se levava i due Il background Veramente Israele Palestinesi Era una coppia normale Si stava bene Si faceva le vacanze Si divertiva A volte si litigava A volte Però poi A un certo punto È voluta tornare Quindi A un certo punto Io ci stavamo due gatti Uno è rimasto con me Che è Bibi Come Bibi Netanyahu E lei si è portata A Tel Aviv L'altro gatto Che si chiama Hamas E quindi c'è Ora penso Le abbia cambiato nome Perché Le ha ucciso Un paio di membri Della famiglia Non il gatto Però insomma È un pochino strano E che è successo? Vabbè Noi siamo rimasti Anche in contatto Io quando ero giù In Palestina Israele Prima del 7 ottobre Il 3 ottobre O il 4 Sono andato a trovarla Perché passavo da Tel Aviv Mentre andavo a Gerusalemme Ho rivisto il gatto Conosciuto Il suo nuovo ragazzo Con la Hippah Ci si era rimasto in rapporto Ci si mandava solo Le foto dei gatti Si parlava dei gatti Che lei figura Se prima Come relazione Potevo Almeno Insistere Sul parlare di un argomento Nel momento in cui Mi lascio E tenevo a vivere in un altro paese Ti devo già ringraziare Che mi mandi Le foto dei gatti Quindi non ho mai più insistito Sulla questione politica Basta Eravamo stati insieme Quindi noi ci mandavamo Letteralmente Ci mandavamo Il fuoco dei gatti E due o tre cazzate Finita lì Non abbiamo più di parlato Quindi sono andato a trovare il gatto Lei e tutto Io il 7 ottobre dovevo tornare in Italia Ovviamente mi sveglio Apro il telefono E c'è Vedo queste immagini Pensavo fosse PUBG C'era presente il videogioco PUBG Quello lì Tipo Fortnite Ah ok ok Ho capito Che la gente si Ti ho detto Ma che sto guardando C'era Tipo Aracadutini dentro Israele Amas con il deltaplano E non capivo Veramente all'inizio Non capivo se era una cosa vera O una gag O alcune faceva Io sono andato a lavare i miei denti A scioccarmi la faccia Sono tornato E stava diventando sempre più grosso Che non c'era mai stata Un'invasione Così Si vedeva a un certo punto Delle camionette Di miliziani Di Amas Della resistenza In genere Poi lo sbaglio Anche dire Che solo Amas Ha partecipato All'attacco Era tutta la resistenza Palestinesi E Giravano queste camionette Nelle città del sud Di Israele E quindi Ovviamente Poi hanno iniziato A lanciarsi i missili E L'aereo è saltato E io chiamai Anna Un po' per sapere Anche come stava Perché insomma Terapi Lì lanciarono L'hanno lanciato Una bella quantità Di Missili E E poi lei mi ricordo Si doveva spostare In quel punto Non mi ricordo Vabbè insomma La sentì E le dissi Quando inizio a farsi Un pochino più seria La cosa E E E lei mi ricordo Mi disse Ci fu prima Lo scambio di messaggio Questo forse Non fu subito Il 7 ottobre Il 7 ottobre Ci si sentì Poi niente Si disse Vabbè stai bene Io mi sa che non riparto Perché Se vengo a Tel Aviv Ti chiamo Perché io a Tel Aviv Mi fa schifo Quindi ci passo sempre Di passaggio Dove bisogno sempre Di un appoggio Di un consiglio Chiamavo lei In un periodo del genere Le ho detto Quindi ti posso richiamare Questi giorni Se ritorno a Tel Aviv Magari O per sbricarmi Qualche pratica In ebraico Lei si è resa disponibile Se hai bisogno Di qualcosa urgente Così E ho detto Però Sta succedendo Oddio Un massacro Una delle prime cose Che mi disse E quella era chiara A tutti Anche agli israeliani Che infatti Per questo Ce l'hanno col governo Netanyahu Non tanto Per aver creato Una pentola a pressione Di odio Dentro Gaza Ma perché Non erano a pattugliarla Più del 92% Delle truppe israeliane Erano in Cisjordania Cioè dall'altra parte Di L'altra L'altra Palestina A fare insediamenti illegali E a proteggere i coloni Mentre facevano i pogrom A le città palestinesi Come Awara Genina Ramallah E quindi Gli israeliani Lei faceva quel bastardo E lei mi ha fatto quel bastardo In italiano E mi ha mandato i soldati A fare la babysitter Ai coloni Ho detto Ora Queste Ora Amas ci sta ammazzando tutti Anna israeliana Ci vive E ho detto Vabbè Poi La risentì Per qualcosa Mi serviva Un'informazione Tutte la vive Non mi rispondeva Poi mi rispondeva Era molto Passivo Aggressivo Vabbè Insomma Poi ci sta Per tutto Quello Era successo Se non mi devi aiutare No ma te vuoi parlare Di politica Io nel frattempo Ho il marito Di mia cugina Che era a rave Non si trova Da due giorni Non voglio Stare dietro Alle tue cose Da tiktoker Mi diceva E gli facevo Magari Tiktoker Magari Mi buttano Tutti giù Lei mi ha fatto Ah no Sapete perché Le scrissi Perché le volevo Scrivere una cosa E mi accorse Che mi aveva Ha smesso di seguire Mi ricordo Mi aveva smesso di seguire Ma aveva tolto Il segui a me Perché ci scrivevamo Su Instagram Anche semplicemente Perché lì non ci stava La shock No no Mi aveva bloccato Ma smesso di seguire Aveva Preto le distanze E Sì che Le avevo chiesto Ma ho detto Perché hai smesso Ti volevo chiedere Probabilmente passo L'aereo ce l'ho Questo giorno Volevo riprendere Un altro volo E poi non ho preso Passo da Tel Aviv Ti posso chiamare Per delle necessità E poi ho visto E mi ha smesso di seguire E mi ha fatto Ah non posso Stare dietro alle tue cose Da influencer Che stai lì a guardare Non uso la parola Tiktoker Che stai a guardare Chi ti segue E chi no E lui fece Ah no c'ho Centomila follower Non è che mi cambia Nel tuo caso Non mi cambia il numero È simbolico Certo Eravamo rimasti in contatto Fino a questo tempo Abbiamo Siamo resistiti A una rottura E continuavamo a sentirci Dal setto E lei mi fece Il marito di mia cugina È qui Quindi non posso Stare dietro È disperso Era rave Due giorni Che non risponde Quindi non posso Stare dietro alle tue cose Da tiktoker Su Sui follower Smettila Io gli risposi Un pochino Forse freddo Forse un po' Insensibile Che ci faceva Sotto un campo Che ci faceva Ballare La prima cosa A me questo pensiero Mi è venuto Da subito Molti ci hanno messo Un po' A sviluppare Li risposi subito Che ci faceva Ballare sotto Un campo Di concentramento Lì mi ricordo Non mi rispose Basta Mi rispose Qualche Si batti Beccò un pochino Non ci siamo mai Offesi Non siamo mai Entrati In uno scontro Diretto Tipo Devi morire Non ce lo siamo mai detti Non l'abbiamo Nemmeno mai pensato Trano tutte le coppie Poi quando si lasciano Di solito Eppure noi Era quella la cosa Proprio noi noi Incredibile E E quindi Anna se Vabbè Dopo questo scambio Quella la frase Che lì mi fece capire Di quanto aveva Interiorizzato Il suprematismo Di quanto aveva Interiorizzato Mi fece Care È vero L'occupazione fa schifo È vero L'occupazione fa schifo Il governo fa schifo Netanyahu fa schifo Bang Bir Fa schifo Ma ora stanno morendo Israeliani Io vedo l'ospedale Che ne arrivano A centinaia Cioè della serie Finché si parlava Noi abbiamo dei morti Di serie A Esatto Adesso si parla Sono morti veri Lei me l'ha detto così Anche perché Anna molto sarcastica Una ragazza Molto divertente Black humor Non aveva mancato No no Ce l'ha sempre avuto Quando morivano a casa Ok ok Quando morivano a casa Selettivo Questo black humor Io infatti Non me le sono andate a ripescare Ma non per far dosseraggio Ma poi non le ho detto a lei Per capire me Per capire Ho detto Io ho questa sensazione O questo è un double standard Le va stante Sono andate a rivedere Lei Mi ricordo Una volta Non so In una discussione Mi fece una battuca Una volta Sui bambini palestinesi Morti Uccisi a Gaza Durante maggio 2021 Quando ci fu un attacco Mi fece una battuca Su questa cosa Una settimana dopo Era successo Infatti Era un po' più sensibile Di lei al tema Le fece Vabbè Anna non fa tanto ridere Ora Un po' Un po' fresca La cosa Un po' Però il giorno E lì si stava ancora Il giorno Ha attaccato Yamasa Ha attaccato Ma ha detto Ora stanno morendo Israeliani Senza rendersene conto Lei non pensa Di essere una suprematista Se glielo chiedi Non pensa Di sentirsi Una razza superiore Lei ti dice Come aiuterà La causa palestinese Questa cosa Dovevano Cioè Quindi per lei Dovevano E lì c'è L'interiorizzazione Dovevano rimanere Dentro una gabbia Certo Perché se ti ribelli Noi si si ammazza Che t'aspetti Questo è il discorso Sottinteso E poi lei non l'ha detto Esplicitamente Però nel momento Inconscio Come pensiero E è Una delle persone Più aperte Di Israele Per questo Da quando inizia La stacola Le ho detto Madonna santa E questo è il meglio Tu non devi andare A vedere il peggio Vedi il colono Il colono è uno schifo Però anche se vai A un comizio di Salvini Lo trovi Un cretino E ti dice roba Fuori del mondo Però Lì non c'è Uno spazio Di discussione Sulla questione palestinese Nemmeno Nelle persone Che si definiscono Più Il gatto Sicuramente Avrà cambiato nome Dopo questa cosa Eh oddio E li ha ammazzato Il marito Della cucina Poi mi sa Anche qualcun altro Perché sono partiti Tutti i riservisti I suoi amici I suoi colleghi Insomma Come si chiamerà adesso? Netamiao Non lo so Netamiao è il mio Scenari ipotetici ed eventuali Quali potrebbero essere? Cioè da qui Al breve tempo Insomma Visto che adesso Insomma All'inizio Pensavamo non ci riguardasse Poi improvvisamente Appena sono arrivati i pirati Nel mar morto Nel canale di Sue Subito Ci stanno toccando le macchine Che dovrebbero venire qua Cazzo Cioè questo è il problema Cazzo il pacco di Shane Arriverà in ritardo No perché è quello il punto Questo Possiamo permettere Un genocidio Ma la borraccia D'amianto Di Shane Ti deve arrivare in orario Adesso è troppo Questo è troppo Una vacanza Mi dà riuscire al costume Il sud Questa però Per questo è diventata Globale Questa Questa guerra Anche ideologica Perché il sud del mondo È stato quello Che ha fatto le cose più umane Lo Yemen Ha fatto un embargo Un boicottaggio Economico Ha detto Ti blocco le navi Così ti devi passare là Non ha ucciso nessuno Ha fatto degli assalti Ha preso qualche nave Ha fatto danni economici Da miliardi e miliardi Però Non uccideva nessuno E non è che diceva Lo faccio Perché ci vuole guadagnare Loro non hanno detto Se smettete di fare Il genocidio a Gaza Noi smettiamo La gente ha detto No andiamo a uccidere gli Uti Perché noi il genocidio Cioè il messaggio Anche qui Il sottotesto era Quindi noi vogliamo Continuare Lo genocidio Non ci rompete il cazzo Perché durerà un po' Perché se ci avevano in mente Di fermare una settimana dopo Non mandavano le navi Nel marmolo Certo Ed è per questo Che sono arrivati Tipo gli inglesi Gli italiani Anche ora ci siamo andati Ci siamo andati anche noi Le navi Iniziano solo americani E inglesi E E poi sono arrivati lì Quindi se Se può fare qualcosa Però nel momento sbagliato E nel posto sbagliato Esatto Anche lì Uno dei paesi più poveri Al mondo Lo Yemen Che già c'è Sui problemi Sono Gli Uti Che è questo gruppo Miliziano Ribelle Poi io la definizione Non sono un geopolitico Quindi Sono un pochino Su certi argomenti Mi informo Il giusto Per avere un'epidione Abbastanza informata Non è che Se mi chiedi chi è Tra l'altro No in realtà La storia Gli Uti Poi Quando l'ho letta È anche Interessante Non è che A loro interno Non ci siano Ricicità O altre cose E Oltre a loro Quindi S'è entrer stato Lo Yemen Uno dei paesi più poveri Al mondo E chi è che ha portato Israele davanti Alla corte di giustizia Internazionale Il Sudafrica Quindi tutto il sud Del mondo Gli unici Si sono mossi Invece noi Con i nostri valori Rispettiamo la vita Noi abbiamo risposto Col taglio All'Urwa No? Noi abbiamo risposto Col taglio Alla più grande Organizzazione Humanitaria Dell'ONU Tra l'altro Quindi Nostra Delle Nazioni Unite Fatte apposta Creata apposta Per i profughi Palestinesi Quindi Accettandola Il fatto che Esistano dei profughi Perché se esistono I profughi E dei campi profughi Sono andati via Da qualche parte Per questo Israele Non li vuole L'Urwa È una cosa politica Se l'Urwa cade Anche se viene sostituita Da qualcuno Che è quello Che vogliono loro Con una scusa Valsiasi Tutti i palestinesi Perdono La Anche quelli Di seconda E terza generazione Perdono Lo status Di rifugiato Diventano persone In un altro Paese O In un campo profughi Che poi prenderanno Un'altra nazionalità Quindi l'attacco È legato a questo Ma lo dice L'hanno sempre saputo Israele sempre sta Contro l'Urwa Ora sa che Qualsiasi Scureggia All'Occidente Li fa da megafono E quindi hanno detto Boh Ci sono Nella chat dell'Urwa In 12 hanno festeggiato Il 7 ottobre E quindi Tagli fondi Loro tra l'altro Gestiscono tutta La Logistica Di fornire Gli aiuti Quindi gli aiuti Dovrebbero arrivare E qui Se no me Si torna Al punto Di prima Com'è che Siamo arrivati Ai ragazzi Che ballano fuori Al campo di concentramento E che non hanno mai Fatto una manifestazione Non solo Dopo averci ballato A parte lo slogan È diventato Torneremo a ballare Vabbè Come se fosse Quello Capito Il problema Non era Leviamo un campo Di concentramento Così torneremo A una pace Nel mondo No voglio tornare A ballare Lì a casa Va bene E ora Stanno facendo I blocchi Ora si trovano Sotto casa Per fare i blocchi Per gli aiuti 75 anni Oh sotto casa Ci fossero andati Una volta A fare un cazzo Di sit-in Di manifestazione In vicinanza Al popolo Leviamo l'embargo No Perché lì dentro Ci sono solo persone Pericolose Lì loro ci vogliono Ammazzare tutti A parte non è vero Ma poi chiediti Perché Cioè parti sempre Un pochino più indietro Ti stai ballando Accanto Gestisci Dell'acqua Che gli entra Gestisci il cibo L'elettricità Cioè un controllo totale La cioccolata è bandita Da gas Cioè per cattiveria Non gli fanno entrare La cioccolata Il coriandolo Non gli fanno entrare Delle spezie Amas le può usare Come arma Cosa Alcune cose Sì Termosifoni Sì Amas fa le armi Anche con Certo Io volevo esplorare Un po' questo Perché noi lo diamo Per scontato Però per esempio In questi giorni Che parlavo con i miei amici Del fatto che abbiamo fatto La puntata Loro ignoravano Tanti diciamo Crimini umanitari Che stanno avvenendo Cioè quindi il fatto Per esempio Che sono costretti A bere l'acqua di mare A mangiare Mangimi per uccelli Se ci spieghi un po' Questo ora Tra l'altro Perché ora Gli hanno tagliato Gli aiuti umanitari Dell'egittimato L'urua E ci sono Migliaia di Cittadini israeliani Si ritrovano Ai vali Ai vali Di Di Gaza Per bloccare L'ingresso Gli aiuti umanitari E ci stanno riuscendo Quindi ne entrano Veramente pochi L'elettricità Per esempio L'elettricità È tagliata Da sempre Ora tutta quella Che c'è L'urua Fa entrare Non solo l'urua Ma gli aiuti umanitari Alcuni sono Di benzina Che serve per alimentare Le cose Degli ospedali Magari da lì Ricaricano anche Il telefono Poi c'è chi Però l'elettricità Non c'è È andata È stata tagliata Ma l'elettricità Non c'era già Ma tutte queste cose Già prima L'elettricità A Gaza Comunque già prima Del 7 ottobre C'era 4 ore al giorno A discrezione Degli israeliani L'acqua Che entrava E faceva entrare Israele Non era l'acqua di mare Ma il 97% Era considerata Non potabile Per gli standard Europei Infatti Se da Se noi fossimo Andati a Gaza Negli anni prima L'anno scorso Due anni fa La prima settimana Sareste stati A letto Con la cacarella A aspettare Che si rinforzasse Il sistema monetario Perché a bere Quell'acqua A noi ci sente male Abituati Alli standard Da nostri Lì Invece La normalità E quindi Quando sai Tutte queste cose E quando sai Che non c'era Nemmeno L'idea Di migliorare Queste cose Anzi Peggiorava Di anno in anno La condizione Di vita A Gaza Cosa cazzo Si aspettavano E per me È veramente Illuminante L'avevo letto Anni e anni fa Fanon I dannati Della terra Che Appunto La È di questo Psichiatra Algerino Francese Che poi Insomma Fa tutto il suo Percorso E racconta Della decolonizzazione Dell'Algeria E Mi avevo detto Tante anni fa L'ho ripreso in mano Ora Fa venire I brividi E stavo scritto nel 61 Il libro Se non sbaglio O lui è morto nel 61 Il libro nel 59 Però più o meno Le date Ma non è attuale Di più C'ha La fotografia di oggi C'è l'ho dietro Perché me l'ero portato Vuole che lo prendo E si legge due Certo Certo Due cosine È interessante Il colono Fa del colonizzato Una specie di quintessenza Del male E infatti Qui dice I palestini Sono la quintessenza del male Infatti il presidente Serrano Erzo Che è andato a delle interviste Faceva Noi stiamo combattendo Per l'universo Ha detto proprio questa parola Io l'ho visto il video Assurdo Noi stiamo difendendo L'universo dal male Era tipo Iron Man I guardiani della galassia Tra l'altro l'ha fatto in Svizzera E un paio di avvocati Hanno chiappato Ha fatto Noi ti si denuncia per crimini Contro l'umanità E lui si chiama Non gli fa niente Perché poi tanto Figura Ti veste denunce Prima che arrivano Però non vi volevo trovare Il mio pezzo Il mio pezzo preferito È questo qui Il pezzo che mi ha Che mi ha fatto Questo è quello Un pochino più romantico Diciamo Per come è raccontato Mondo a scomparti Manicheo Immobile Mondo di statue La statua del generale Che ha operato la conquista Qui sta parlando Del mondo del colonizzatore Quindi dice C'è la statua del generale Che ha operato la conquista La statua dell'ingegnere Che ha costruito il ponte È un mondo sicuro di sé Che schiaccia Con le sue pietre Le schiene Scorticate dalla frusta Ecco il mondo coloniale L'indigeno È un essere chiuso In un recinto L'apartheid Non è che Una modalità Della divisione Scompartimenti Del mondo coloniale La prima cosa Che l'indigeno Impara È stare al suo posto A non altripassare i limiti Perciò I sogni dell'indigeno Sono sogni muscolari Sogni di azione Sogni aggressivi Sogni Sogno di saltare Di nuotare Di correre Di arrampicarsi Sogno di scoppiare Dalle risa Di varcare il fiume Con un salto Di essere inseguito Da mute di macchine Che non lo pigliano mai Durante la colonizzazione Il colonizzato Non cessa di liberarsi Tra le nove Della serie Alle sei del mattino Della serie Quando sei colonizzato Te ci pensi sempre Te la sogni La senti Questa voglia muscolare Di libertà Per questo L'anticolonialismo Anche se è violento In realtà è libertà Il 7 ottobre è libertà Per me È libertà È un bisogno La libertà però Non vuol dire Che è una cosa bella Non è che io dico È bello Vedere quelle immagini Però non può essere Altrimenti O almeno In certe situazioni E E Questo è interessante Il colonizzato È un perseguitato Che sogna Continuamente Di diventare Persecutore E qui sta dicendo Che quando sei colonizzato Ti sogni continuamente Di diventare Il suo persecutore Invertire ruoli Invertire ruoli Simboli sociali Gendarmi Suoni di tromba Nelle caserme Riviste militari E la bandiera lassù Fungono insieme Da inibitori E da eccitanti Non significa affatto Fermo Non ti muovere Ma Prepara bene il colpo Cioè Cosa mi hanno fatto Venire in mente È tutto così Questo libro È incredibile Poi se Cioè diventa quasi Un bisogno fisiologico Capito È il tuo inconscio È la natura umana Questo qui infatti È uno psichiatra Lui È uno psichiatra Che prima Lui ha fatto l'esercito Come francese Quindi lui è uno Che si è anche Decostruito Certo Si è decolonizzato Nella mente E poi Uno psichiatra Inserito in società Diceva Lui a un certo punto Voleva essere bianco Questa fase Ci sono passate Anch'io Lui voleva stare Con i bianchi Io sono stato Con l'israeliana Io ho detto Magari volevo Volevo diventare Un pochino come loro Volevo La fascinazione La fascinazione Ora poi Non voglio paragonarmi Assolutamente A Fanon Anzi Voglio però Rivedermi In alcune Dinamiche In alcune dinamiche Lui descrive Io mi ci riconosco Perché anch'io Hai vissuto certe cose L'ho vissute Perché tutti i colonizzati Le vivono in un modo o nell'altro Ovviamente chi le vive In prima persona a Gaza Le vive in modo più pesante Ma anche noi in diaspora Le viviamo Le avverti Le avverti In un certo modo E lui va molto fuori Quindi non capisco Perché questo libro Si è accettato Come un libro E tra l'altro viene pubblicato Ora io ho una versione vecchia Ma viene pubblicato Tutto ora Da Einaudi Un libro che si studia Nell'università Forse viene semplicemente Sottovalutato Grazie a Dio Viene solo sottovalutato Però capito Non è che dici Io sono andato a prendere Il libro di uno Che piace a me Che però è un fanatista Dico Fanon Fanon Insomma Questo non vuol dire Che bisogna essere d'accordo Con tutto quello che dice Però Ha riscritto la storia Dell'anticolonialismo È una fonte autorevole È una fonte Non autorevole di più Nei paesi coloniali Soltanto il ceto contadino È rivoluzionale Poi dice Vabbè Ora si va Si va troppo cose Però Ci sono Ci sono delle frasi Molto forti La colonizzazione O la decolonizzazione È semplicemente Un rapporto di forze Lo sfruttato Si accorge Che la sua liberazione Presuppone Tutti i mezzi E anzitutto La forza Il colonialismo Molla soltanto Con il coltello Sulla gola E poi vi ripeto Riparla del colonialismo E dice Il colonialismo Non è una macchina pensante Non è un corpo Dotato di ragione È la violenza Allo stato di natura E non può piegarsi Se non davanti A una violenza Ancora maggiore È questo Infatti Ora senza andare A continuare a leggere Perché se no Si può stare Sempre Le ore Perché no Fanone è troppo E Se uno ci pensa Molti dicono Che c'hanno guarnato Palestinesi Stanno morendo A migliaia E E poi Poi c'è un pochino Anche questa La Anche Che fanno gli israeliani Quelli moderati Dicono Non lo sapevano Che Israele avrebbe risposto così Quindi come dire Noi li abbiamo sempre minacciati Di un genocidio Se ci toccano i nostri E quindi Vuol dire Che Sei sotto minaccia Vuol dire Che il problema C'era già E a un certo punto Uno decide Voglio vivere come un animale Voglio vivere in gabbia Voglio provarci O voglio morire provando A liberarmi Poi tra l'altro Nella cultura Non tutti i resistenti Che li hanno partecipato Insomma La resistenza Su Islam Hamas E il gruppo islamico E però Vuol dire che Quelli al suo interno Sono Sono musulmani Certo C'hanno dei precetti Seguono delle cose Ma il loro statuto Non è Andiamo E distruggiamo Il giorno in cui Hanno fatto l'attacco Il 7 ottobre Che è stato preceduto Da una dichiarazione Di Mohammed Dave Che è il capo Della brigata Al Kassam Di Hamas L'hanno detto Noi andiamo a liberarci Dall'occupazione Colonialista Israeliana Non li attacchiamo Perché sono ebrei Non li attacchiamo Perché ci stanno occupando Infatti hanno ucciso Anche degli arabi Con passaporte israeliano Mia cugina Quel giorno al rave Non c'era Perché abita lì vicino E Non c'era Perché non c'era Solli Perché costano poi Questi rave C'era la sua amica E Shani Luke Che tutti sappiamo Che brutta fine ha fatto Terribile Però era Era lì Rischiava Hanno preso chiunque Se c'ero io O te Ci pigliamo Sei ebreo o no Ma là non ti ammazzi Lì non era Ti abballare Fuori dalla loro Da Auschwitz Non ci dovevi essere Per loro Poi non è che Poi l'obiettivo Era prendere più ostaggi possibili Considerando che sono tutti armati Anche i civili Insomma le cose Ci sono stati sconti armati Ci sono state molte perdite Questo che È un momento Tragico Ma che fa parte Di un percorso storico Secondo me È difficile negarlo Si continua a dire Che la massa è atto terroristico Non lo so Quante volte te l'hanno fatta La domanda Ma tu condanni La massa Ma poche Perché poi inizia a rispondere No E quindi si triggeravano Condanni la massa No No Si incalare Antisemita Vuoi la morte Della gente Vuoi assassinare tutti A me viene da ridere Perché io passavo veramente Tutta la mia vita Poi in ospedale Insomma uno non è che ci lavora Per diventare rico E che resti un poveraccio E passi le giornate Aiuto agli altri Lo fai per missione Praticamente Perché ti piace A me il mio lavoro piace Piace ancora Aiuto Nello specifico Faccio logopedista Di gravi cerebrolesioni Cioè Per me anche La perdita dell'uso Della parola La perdita dell'uso Della memoria a breve termine Non è una tragedia Su cui lavoro E cerco di migliorare Figurare se la perdita Di una vita Che valore Non mi può sconvolgere Però Però come Come non si fa A non vedere A non vedere Il grande insieme A No c'era Come può Non venire voglia Di liberarti Da una condizione Del genere Questo non vuol dire Che lo pensano Io non rappresento Il pensiero Di tutti i palestinesi Anzi E poi Però anche a Gaza Come che Che hanno Sono tutti Sono nati dei mostri Sono nati i mostri Che ce l'hanno Con gli ebrei Perché questa è la narrativa Che vogliono passare Certo O non volevano vivere In una gabbia Dove venivano bombardati Una, due, tre volte all'anno Fosforo bianco Acqua sporca Abbiamo dieci minuti E dobbiamo chiudere Ti leggo magari qualche domanda Che ce l'hanno fatte Veramente tante Parto da quelle Di l***** Mi chiede Cosa ne pensi Del modo In cui i media Stanno raccontando Questo conflitto Adesso Qua in Italia E i media Se ne parlava Prima Ora sono in difficoltà Perché Il loro lavoro Era stato così Di propaganda Perché io la chiamo così Si erano infiltrati Così bene Nella narrativa Israeliana Che qualsiasi cosa Dicevano Di Israele O di Palestina Noi ci si credeva Nessuno dibatteva Ora Si sono accorti Che anche se sbagliano Sbagliano Se anche se usano Le loro solite armi Di propaganda Anche linguistiche La gente li va contro Quando dicono La gente inizia A accorgersi Che quando parlano Di israeliani Dicono uccisi Uccisi da Hamas Quando parlano Di bambini palestini Dicono morti Non dicono nemmeno Chi sono Dicono Inda è morta Chi è? Palestinese Israele Dove? Morta di che? Cascata di bicicletta Che è successo? Ma ci sono Delle testate Giornalistiche Della quale Ci possiamo Bene o male Fidare Il fatto quotidiano C'ha voci plurali A parte A parte il direttore A parte il direttore Il libro Questo è un appello Che faccio a tutti Il libro di Marco Travaglio Sulla questione Sulla questione palestinese Non compratelo È un instant book Che fa cagare Cioè Io l'ho sfogliato In biblioteca Ho sfogliato tre pagine In libreria C'è una quantità Di inesattezze Proprio storiche È proprio inesatto È sbagliato Come il libro Indipendentemente Da come la si pensi Non è che bisogna leggere Per forza Quello la pensa Quello è proprio sbagliato Poi stavo scritto In una settimana Che il libro è Travaglio di esteri Non si deve occupare Solo deve occupare Di Berlusconi Di Bunga Bunga Le cose Fortissimo Lì è fortissimo Lì è fortissimo Lì è proprio Territorio suo Però ospita Dei giornalisti E degli opinionisti Sulla Molti E soprattutto Li lascia libertà Mi sembra informazione libera Quanto meno Mi sembra più libera Cioè hanno una minima linea Editoriale Però è abbastanza libera Diciamo Secondo me Il manifesto Abbastanza schierato Con le linee editoriale Però gli articoli Sono argomentati Insomma trovi le fonti E poi L'importante è che Ci metti in mano Degli strumenti Utili Sennò uno Non sa come orientarsi Sai io Ho riscoperto L'informazione Su Twitter Però anche lì Lì devi stare attento Perché lì È una cloaca Di Confusionare Ma se trovi Quelli giusti E Fanno sempre Delle analisi Riferimenti Poi è strutturato Proprio per farlo bene Infatti Trezza da quel punto di vista Nonostante l'abbia copiato È rimasto Un Twitter giocoso Invece Twitter Su Twitter sono tutti Hater tra l'altro Gente un po' Si dice Oddio mi odiano tutti No su Twitter È proprio che funziona così È normale È funziona così La merce di scambio è l'odio Sì sì La merce di scambio è l'odio Quindi qualsiasi cosa Vedi pubblicata Sotto c'è scritto Oddio la penso diversamente Ma te devi morire Magari muori C'è la firma L'hashtag finale Muori Muori è buongiorno È un altro vocabolario Twitter italiano Ma è fantastico Trovi delle offese Che magari Ti arrivano E io ho fatto I primi cose su Twitter Questa è colpa Di Elon Musk Che è un folgorato Dichiarato Slantizzato tutto Però in realtà Lì se sei bravo A cercare notizie Trovi i fonti E soprattutto Gente che ci dedica Una quantità di tempo Tra l'altro Incredibile Ragazzi grazie mille Grazie a voi Grazie a voi Grazie a te Per essere venuto Ti hanno annullato La serata Che sei un grande Ma a Roma ci vengo Sempre volentieri Ora senza annunciarlo Più troppo bene Troppo nei social Un po' esatto De nascosto Magari io dico So a Roma Stasera vo' al podcast Magari si immaginavano Che ero in collegamento Bravo esatto Zoom Non hanno capito bene Grazie Grazie Ciao amici Ciao A prossimo